Cari amici del nostro canale. Benvenuti a una nuova emozionante puntata di Amici. Dove le voci straordinarie continuano a regalarci momenti indimenticabili. Oggi vogliamo dedicare un po' di tempo a parlare di Holden. Una vera stella in ascesa che ha già catturato i cuori di molti. Nella recente esibizione, Holden ha toccato il cuore del pubblico e dei giudici con la sua intensa interpretazione. Il suo inedito, Dimmi che non è un addio, ha già conquistato il titolo di singolo più ascoltato di questa edizione di Amici, segnando un inizio incredibile per il giovane cantante della scuderia di Rudy Zerbi. Ma la vera sorpresa è arrivata durante la sua esibizione con la cover di Il mio canto libero, di Lucio Battisti. Holden ha vissuto un momento di commozione, interrompendo brevemente la sua performance. Tuttavia, il suo coraggio e la sua determinazione hanno prevalso, e ha proseguito con una forza ancora maggiore. Il giudice Tommaso Paradiso ha elogiato la performance, sottolineando l'autenticità delle emozioni di Holden. È bello che sei emozionato. Si sentiva anche nella tua voce. Sei partito alla grande e questo è quello che conta. Anche Maria De Filippi ha espresso la sua ammirazione per Holden, sottolineando la forza del suo spirito. Se ti fosse successo questo anche una settimana fa, saresti andato nel panico. Invece, vederti togliere il microfono dall'asta e continuare a cantare per me è stato tanto. Chapeau! Se siete appassionati di amici e delle storie di talento e determinazione, vi invitiamo a lasciare un like e condividere i vostri pensieri nei commenti e, soprattutto, iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati sulle ultime emozionanti notizie dal mondo dello spettacolo. Grazie per essere qui con noi. E ci vediamo nel prossimo video.